E la gente è strana, si hanno messo il telefono in mano ancora a me, con la mia faccia, con un contratto speso e si hanno buscato non mille, è duemila, qua si tratta di un giro di quasi duecentomila euro. Ma ci rendiamo conto, questi soldi non mi lasci un buscato a cantare, se non sono duecento ma sono centosettanti, centocinquanti, si hanno fai conto. Pensate un poco di come mi hanno manovrato e mi hanno usato e mi hanno preso in giro, solo questo. Però sapete che io sono per la pace e non per la guerra, non farò mai il nome per il momento perché ci stiamo chiarendo in privato. Va bene, poi non è una persona, ne sono tre o quattro persone che hanno fatto questo su di me. Quindi è inutile che scrivete Anna Lucia Bonavolt non è, Anna Maria Live non è, Enzo Bambolino non è, Annarello non è, Assunto non è, Arnaldo non è, Massimo non è, Lauro non è. Tutti questi belli nomi che state scrivendo sotto il TikTok non sono, quindi tutte queste persone che vi ho fatto i nomi, che poi mi hanno chiamato in privata e hanno fatto il burbello, fai un video e dici che non sono io perché mi stanno contattando, che sono chi. Cioè qui si sente coscienza e tenete la coscienza e la pulita, che poi sentite a fai amare in causa, è perché ho visto che prima attrice è prima attura.